Malvenuti a Nerdì dello zio Tibia. Mi è giunto all'orecchio che si sono liberate ultimamente molte casette. E il vostro spero odiato zio Tibia non se ne è lasciate scappare. Cominciamo questa sera con la casa di Helen. E prossimamente vedremo chi è sepolto in quella casa. E poi la casa 1 e la casa 2. L'agenzia immobiliare zio Tibia è a vostra completa disposizione per ulteriori informazioni. Chissà che non si riesca a trovare un loculo anche per astragolo, poverino. A proposito, come va caro il mio giovane e instancabile amico? Tutto bene? Bene, sono contento. Allora, se anche tu, Golem, sei d'accordo? Si inizi lo spettacolo. E se non volete diventare puro spirito, sarà meglio che ci rivediamo più.